Gli amanti dell'Ippica e dell'Equitazione si sono riuniti il 13, 14 e 15 febbraio per la nuova edizione di Cavalli a Roma che ha ospitato un ricco calendario di attività, competizioni e di iniziative speciali. L'evento, allestito all'interno del polo della nuova Fiera di Roma, ha coinvolto quasi tutti i padiglioni della fiera, con un immenso circo lequestre appositamente costruito, le manifestazioni e le aree commerciali. Gli splendidi esemplari di cavalli di tutte le razze, i veri protagonisti della manifestazione, si sono lasciati ammirare in una serie di interessanti attività agonistiche e ludiche, permettendo al grande pubblico di imparare molto dell'Ippica e agli appassionati di lunga data di conoscere i nuovi protagonisti di questo antico sport. Salta ostacoli, dressage, reining, cutting, team panning, barrel e monta da lavoro. Queste sono state alcune delle specialità mostrate durante le tre giornate di fiera, che ha unito alla traduzione italiana e quella internazionale, per dare vita ad una manifestazione culturale a tutto tondo. Le esibizioni di cutting e panning hanno riportato lo spettatore all'immaginario filmico dei cowboys americani, dei film western, dove mandrie di bestiame sono state condotte ai loro recinti. Non sono mancate però le gare di equitazione in senso stretto, dove il cavaliere e il suo cavallo hanno dovuto gareggiare per la perfetta esecuzione dei percorsi e ostacoli. Cavalli a Roma, nella sua edizione 2015, si conferma quindi come un appuntamento assolutamente imperdibile per tutti i curiosi e le famiglie in cerca di attività per far divertire e appassionare i bambini ad una nuova disciplina.